Allora, Bagnoli, oggi è stata scritta un'importante pagina di storia per l'Ellas Verona e nessuno ci credeva. Quale futuro ci vuole adesso? No, nessuno ci credeva, però oggi siamo nella storia, ma per continuare ad esserlo c'è un'importante cosa da fare, e cioè l'azionariato popolare. Sì, ma come si fa per aderire? Vai su www.veronacolcuore.it e aderisci. Partecipati tu alla storia del tuo Ellas Verona. La Piela